La provincia di Pesero è sempre più l'epicentro del contagio nelle Marche. Nella giornata di oggi il bollettino emesso dal Gores di Ancona dà un bilancio pesantissimo sul fronte dei decessi. Ben cinque avvenuti tutti nelle strutture di Marche Nord. Quattro uomini, ultraottantenni e una donna di 73 anni. La donna è la prima contagiata fanese, Giannina Sanchioni, in Cornacchini, nota commerciante di scarpe della città che fu ricoverata in gravi condizioni il 26 febbraio e che risultò positiva al coronavirus assieme al suo compagno, attualmente ancora ricoverato in rianimazione. Otto decessi su dieci avvenuti nelle Marche sono quindi nella provincia pesarese e questo è sicuramente una conferma di quanto le strutture sanitarie locali stanno lottando con tutte le forze per contrastare le complicanze che derivano dal contagio, contagio che non accenna a rallentare nella sua parabola. Viaggiamo al ritmo di oltre 50 casi positivi giorno dopo giorno che ora sono arrivati a 323 su 1250 tamponi effettuati. In incremento in provincia anche i ricoveri in terapia intensiva che ora sono 47, di cui 18 a Pesaro e 7 a Fano contro i 10 di Ancona e i 5 di Fermo. Le persone ricoverate inoltre nei reparti non intensivi sono 136 e la metà 68, sono in strutture di Marche Nord. Ciò che resta sempre allarmante sono i sanitari in quarantena che sono arrivati a 274, mentre il totale dei casi in isolamento domiciliare senza sintomi sono 1.422, mentre quelli che presentano sintomatologia sono arrivati a 131 per un totale complessivo di 1.533 casi. Tutte le strutture stanno anche rinforzando gli organici. A Marche Nord sono previsti una ventina di infermieri in arrivo assunti da poco che andranno a rincalzare gli organici e 100 saranno a Torrette, di cui una cinquantina prenderà servizio già a partire dal 16 del mese in corso.